Buonasera a tutti e ben ritrovati al Tg7 Basilicata. Un 77enne di Marconia di Pisticci è morto mentre viaggiava su un mezzo agricolo, nel comune di Pisticci. L'uomo è stato colto da un malore e il trattore si è ribaltato. Nelle immediate vicinanze si trovava un'ambulanza del 118. Gli operatori sanitari hanno assistito alla scena e lo hanno soccorso tempestivamente, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco di Potenza e Palazzo San Gervasio sono intervenuti in un incidente stradale sulla SP 123 Oppido Lucano-Genzano di Lucania. Gli occupanti di una lancia e di una mini coinvolte in uno scontro frontale sono stati trasportati all'ospedale San Carlo di Potenza per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, personale del 118 e il servizio di soccorso stradale. A Maratea i carabinieri di Lago Negro hanno arrestato quattro giovani, tutti della provincia di Salerno, per furto aggravato. I giovani, approfittando dell'oscurità, si sono avvicinati ad un escavatore utilizzato per lo scavo di una galleria lungo la SS18, in località Acquafredda di Maratea. E dopo aver forzato il serbatoio stavano asportando il gasolio quando sono stati sorpresi dai militari dell'arma. I carabinieri già da tempo stavano sorvegliando il cantiere che era stato teatro di analoghi furti. Vistisi scoperti, i quattro ragazzi si sono dati alla fuga scappando a bordo di due automobili ma venendo poi bloccati dai militari dopo un inseguimento protrattosi per qualche chilometro sono stati poi finalmente arrestati. Per questa sera è davvero tutto, io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento e a domani. Buona serata, arrivederci. Grazie.